Io penso che l'Arezzo dopo una vittoria importante come quella di Domenica con la Pianese abbia calato un pochino l'attenzione, è chiaro che è una cosa normale, poi a noi ci si è messa bene subito perché l'espulsione del rigore sicuramente ci ha spianato la strada, però nulla toglie la prestazione della mia squadra perché noi dobbiamo stare ancora sul pezzo perché questi punti non sono ancora sufficienti per essere salvi. Mestre tra l'altro all'inizio della partita abbiamo veduto una partita molto maschia, nessuno delle due ci stava a perdere, dopo questi due episodi a quattordicesimo vi siete trovati in 10 contro 11, però soprattutto sul 2 a 0. Sì, è sicuramente una strada spianata per fare una partita come abbiamo fatto, l'Arezzo sicuramente qualcosa ha concesso dal punto di vista della concentrazione, ma penso che sia una cosa normale e noi abbiamo fatto un'ottima prestazione, 5 gol anche di buona fattura, quindi sono contento della prestazione dei miei ragazzi, più che altro che ci dà fiducia per le prossime due partite. Grazie Grazie Grazie